Su i cellulari, vai! Oh, che ne schai, se il Brasile non può essere lì, vai! Se vuoi, una notte di settembre, vieni a strai, il vento sui torrenti. Il suo piano, il tuo lavoro è strai. E se vuoi, una notte di settembre, vieni a stare, E quando si vuoi, mi lo kei, il mio capo è tutto il tuo piede. E io, va, a volte lo che so io, va, a volte lo che lo so io. E io, ma il mio capo è tutto 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 il mio capo. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava una città. Una bombi ma che sa, sempre a sui non può essere da. E allora, poi! Poi, una notte di settembre e andai, dopo di un amico. Poi, una notte di settembre e andai, dopo di un amico. Poi, una notte di settembre e andai, dopo di un amico. Poi, una notte di settembre e andai. Poi, una notte di settembre e andai, dopo di un amico. Poi, una notte di settembre e andai. 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 Allora, prima di lasciare i ragazzi con il pilato, volevo ringraziare ancora tutti voi, tutti quelli che sono venuti questa sera, perché comunque non era facile pensare di venire qui a divertirsi con l'acqua che è arrivata, però grazie comunque a tutti. Allora, un'altra cosa, voglio innanzitutto, siccome vi ho promesso, ragazzi non vi paghiamo niente, perché vi garantisco, vi faccio vendere un casino di magliette, di merchandising, avete comprato magliette... E soprattutto, non vi pago perché vi faccio suonare io, Vagabondo, che è il vostro sogno suonare. No, no, era solo per la promessa, cioè le magliette dove sono? Una, due, tre... No, ma che l'hanno comprata in tre, dai, dai, se no, voglio... Ho capito, devo pagarli ancora io. Almeno fatemi sentire un applauso forte, il che vuol dire che meritano che vi richiamiamo l'anno prossimo. Vi richiamiamo l'anno prossimo? Vi richiamiamo l'anno prossimo, sì o no? Allora, una cosa sola, domani siamo ancora qui, vi aspetto ancora tutti, la serata, la sagra continua, allora domani sera è una serata speciale doppio verde, quindi apriranno il concerto Twin Less, è un gruppo giovane che fanno un rock anni 90-2000, seguirà chi c'è stato l'anno scorso i Big Bang, che fanno, ripetono la storia del rock, 60, 70, 80 e 90. Quindi vi aspetto domani sera, la cucina, il bere, c'è ancora tutto, mi raccomando, se voi spendete, la sagra l'anno prossimo ci sarà ancora. No, spendete, azzarola. Eh, non dico do prostituirmi, anzi, do prostituire mio fratello, Alex. Ciao a tutti, buonanotte, a domani. Grazie!